Benvenuti ragazzi qui è Giulio del Stato e benvenuti nel mio canale e oggi siamo qua con un nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 15 In questo episodio ragazzi andremo a giocare la prima partita di campionato e la seconda partita della Campion 1 Cup Per la formazione vediamo un po' chi è stanco, vediamo Insigni che è abbastanza stanco anche se ha giocato solo una partita E quindi ritorna Coutinho, fuori Henderson e ritorna Thiago Alcantara e fuori Kovacic e mettiamo Hallen Dentro a Kessar Ridge a posto di I.I.B. e voglio mettere Balotelli, dov'è Balotelli? Al posto di Sterling Sto facendo dei turnover un po' più misurati, vediamo un po' se così non riusciamo a perdere più punti per strada Comunque prima di iniziare ragazzi come sempre invita a lasciare un bel like per supportare al massimo questa carriera allenatore E noi ci vediamo in campo contro l'Hall City Eccoci qui ragazzi siamo ad Anfield per giocare la partita contro l'Hall City e inizia adesso Liverpool al City Attenzione del cross dentro, di teso, uh, quanto ha saltato questo? 20 metri Con Don B.A. Attenzione appoggia dentro per Thiago Alcantara, Thiago Alcantara la finta su 2 Arriva con Don B.A. dall'altro lato, è buono per Alberto Moreno Si gira, appoggia poi messo giù calcio di rigore Si, ci sta dopo 10 minuti calcio di rigore Balotelli, vediamo se riesce a metterla dentro La finta di Mario e poi no, perché ho tirato Scenziale? Stavolta l'ho angolata io ragazzi avete sentito anche il rumore Vai Coutinho, vai Coutinho, vai Coutinho, poi arriva lì, no Calcio di rigore ancora? Cos'è? Fallo? No, calcio di punizione stavolta Dopo l'accelerazione di Coutinho Anzi però qua è troppo vicino mi sa, eh, mi sa che è troppo vicino Noi abbiamo un sinistro che è Saric, solo che sui calci di punizione non lo vedo, non lo vedo bene Ragazzi io ci provo a tirare con Coutinho, vediamo se magari ci viene bene Vai Coutinho, vai destro deviato E' niente, attenzione, il cross dentro, ancora questo che salta 20 metri Stavolta ci arriva Mignolet, attenzione, il cross dentro, ancora di testa Questi sono di testa giocano ragazzi, è sempre lui, è sempre lo stesso che colpisce di testa Attenzione che sbagliano, attenzione che sbagliano Vai forza, c'è la Coutinho, vai Coutinho Il destro di Coutinho, fuori Ci ho provato ragazzi perché se no mi toglievano sempre il pallone quando stavo per tirarlo Una volta ci ho provato da fuori Forza Condombia, la fine di Condombia, fuori 1 Ancora Condombia, forza accelera Il cross dentro, attenzione Di rovescio da Balotelli Mamma mia Tiacalcantra, vediamo se c'è tempo Coutinho, vai Coutinho, ci provo ancora ragazzi Il destro di Coutinho, ancora sto Kim Attenzione è buona per Coutinho Si gira Coutinho, si gira Coutinho Non c'è spazio ragazzi per tirare Non c'è spazio il destro perché ho tirato lo stesso Non c'è spazio per tirare, ho tirato lo stesso Ancora per Balotelli Vai Balotelli che tu ce l'hai la botta Vai che ce l'hai la botta Kim, calcio d'angolo, è buona Balotelli, Starrich 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 Kim ancora Calcio d'angolo, ancora Darmian Dentro di testa con sacco Palo E vabbè dai però Anche il palo adesso come sempre Condombia il sinistro Ragazzi o si tira da fuori Oppure non so come fare perché sono tutti chiusi lì Alberto Moreno Dentro per Allen Gira di Allen Il destro di Allen Ancora sto Kim Ragazzi io non ci posso fare niente Sto provando in tutti i modi Darmian, Darmian Dentro Baci di testa con Dombia Fuori Attenzione recupera un palla No ragazzi non si leva anche i rimpalli Dentro Oh Oh Fuori gioco Fuori gioco Cioè ragazzi ma voi siete pazzi Voi siete pazzi Voi siete pazzi Vediamo se ci diamo per un'ultima azione Arbitro per favore Arbitro Arbitro lo so che è difficile No dai Niente ragazzi Non ce l'abbiamo fatta Anche il palo alla fine Davvero anche sfortunati Noi ma comunque Niente E tanto Danny Howard Ci chiede Ci fa una richiesta Speravo che potesse Prima di un po' la rosa Darmi la possibilità di giocare Allora Danny Howard Tu mi sembra che sei quel portiere Che sia 57 Tipo Eccolo qua Un portiere 57 Ma dove vuoi andare tu 57 Meglio che te ne stai tranquillo Nelle riserve Neanche in patina Nelle riserve Allora Prossima partita di coppa Ricominciamo con il turnover Mettiamo l'insigne Rimane Badotelli E Starridge non gioca Ma gioca Ibe José Enrique A posto di Moreno Tiapalcantara Che sta davvero Molto molto male A posto di Henderson Kovacic A posto di Condombia E Kovacic Qua così scambiamo Ale Lo mettiamo a destra Così giocheremo Anzi no Aspetta 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 Perché Toure E' abbastanza stanche Quindi vorrei mettere anche Un difensore centrale Quindi Lovren Eccolo qua Così andiamo a giocare La prossima partita ragazzi Di coppa Noi ci vediamo in campo Bella Eccoci qui ragazzi Le squadre stanno per entrare in campo Sotto la pioggia E inizia adesso Liverpool Squadra Che non mi ricordo Attenzione Il calcio di punizione Dopo due minuti Ragazzi io ci proverei Anche però Se qua ci vorrebbe un sinistro Ragazzi io ci provo con Balotelli Dai proviamoci con Balotelli Tanto la barriera che avanza Qui Chi se ne frega Io ci provo con Balotelli Mi spero che ci vada bene Il destro di Balotelli A scendere Buona Attenzione Balotelli Guarda Balotelli Dentro Veloce 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 Dentro Dall'altro Dove stare E no La deviazione ragazzi Se passava quel pallone Sarre Ci doveva solo appoggiare Anzi IB doveva solo appoggiare Attenzione è buona Per insignie Dentro per IB Forse IB che si devi scattare Vai IB Vai IB IB Attenzione Passa Grande IB L'ha vinta Poi il destro No ragazzi Anche sfortunato Però adesso IB Anche sfortunato Andiamo a dire la verità IB Guarda Balotelli E' buona Vai Mario Al volo Westwood Attenzione E' buono Kovacic IB Vai veloce Vai veloce Vai veloce Forza 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 Per Giuse Enrique Vai Giuse Enrique Vai Giuse Enrique Il cross dentro Per insignia Di testa Con lo più basso Vai Balotelli Di sinistra No Peccato lui Poi il destro Di insignia Però mi sembra che fuori gioco Anzi no Tutto regolare Lorenzo insignia Ragazzi Il secondo gol Con la maglia del Liverpool Tutto regolare Sembrava pure il gioco netto Però vabbè Di prima Balotelli E' buona dentro Per insignia Vai Lorenzo Vai Lorenzo La finta Entra dentro Entra dentro Il sinistro di Lorenzo Ancora sto Westwood Niente Anderson Con calma Dentro per insignia Forza Balotelli Dentro per i B Vai ve Vai ve Con calma Vai ve Accelera Vai 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 Con calma Con calma Prova a passare Bravissimo Il destro Ancora Westwood Ragazzi I B E' proprio Ha una maledizione Con lo colli Attenzione Il cross Dentro Di testa Mignolette C'è ragazzi Veramente Questi stavano Facendo gola Al primo tiro In porta Ma neanche Al primo tiro In porta Talla volta Che sono andata In aria Attenzione Adesso Calcio d'angolo Di testa Insigne Di testa Mamma mia I B Cosa ha fatto I B Forza Forza Accelera Adesso Non rovinare Tutto Non rovinare Tutto Appoggia E' buona Per Kovacic Dentro per Balotelli Vai Balotelli Ce l'hai anche tu Forza Lo so che non sei veloce Però Fai il possibile La finta Entra dentro Il destro Mamma mia Di punta Fuori No attenzione Cos'è Perché siamo così scoperti Perché siamo così scoperti Minore Palo Palo Mamma mia Attenzione Fermatelo Feli Pemero Dentro Via così Enrique Forza Forza Che siamo Che sono molto Sbilanciati Insigne Insigne Veda dall'altro lato E' buona E' buona per I B I B Questo è tuo Anzi no Dentro per Balotelli Che appoggia di tacco Che gola Che gola Di tacco Sta in corsa Non era facile Non era facile Non era facile Secondo gol Capital One Cup Per Balotelli 2 a 0 Attenzione Dentro di testa Via così Attenzione Di Enna Di Enna Il testo di Di Enna Fuori Ragazzi In questi ultimi 5 minuti Davvero Ha giocato benissima Questa squadra Che adesso Lo Sheffield In onore Allo Sheffield Come cavolo si chiama Che davvero Ci ha Ci ha dato del filo Da torcere Abbiamo rischiato molto Quindi complimenti Prostima partita ragazzi Conto il Newcastle Questa per la classifica Di campionato Noi siamo sempre Al secondo posto Sempre con due punti Di distacco Dal Tottenham Intanto Vediamo il primo Del torneo 5.000 euro Siamo passati da 2.000 euro A 5.000 euro Quindi davvero Un bottino incredibile E nel prossimo episodio Andremo a giocare Come ho detto prima La partita contro Il Newcastle E poi la partita Di Champions League Contro il Benfica Siamo ancora a novembre Ragazzi Quindi la strada È ancora lunga Ma piano piano Faremo tutta quanta La stagione Quindi per questo video Tutti Come sempre Vi lascia un bel like Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Passatevi sulla pagina Facebook Il link lo datete Più sotto in descrizione Noi ci vediamo Con il prossimo video Bye